Salve a tutti gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questa puntata 15 di Polis, il primo piano sulla politica a cura di Come Don Quixote. Una puntata molto importante, siamo sulla fine del 2023 e si stanno chiudendo una serie di questioni. Sappiamo che proprio ieri è stato approvato dal Consiglio Europeo il patto di stabilità, è stato trovato l'accordo attraverso una riunione d'urgenza dei ministri dell'economia e delle finanze, trovato l'accordo anche sul nuovo patto per l'immigrazione e infine ovviamente commenteremo anche quelle che sono state le giornate dedicate alla destra, le giornate di Atreiu. Io sono Massimo Antonino Cascone e questa è la nostra sigla. Partiamo subito con la carrellata delle notizie della settimana come in ogni puntata, e apriamo la nostra carrellata partendo da quanto accaduto in Europa in questi giorni, come vi dicevo anche prima. Tante tessere del mosaico hanno trovato il loro posto andando a definire nuovi equilibri. Prima di tutto una notizia più fresca. Ieri, nell'ultimo pomeriggio disponibile del 2023, l'Unione Europea è riuscita a trovare l'intesa sul nuovo patto di stabilità durante un inusuale ecofin straordinario convocato in videocall dalla Presidenza spagnola, a cui ha partecipato ovviamente il ministro Giorgetti. Lo spirito di compromesso ha prevalso, ha successivamente dichiarato il ministro. Vedremo insieme l'approfondimento nella seconda parte della puntata quante delle richieste italiane sono state soddisfatte. Sempre ieri poi raggiunto in Europa l'accordo anche per quanto riguarda il patto sui migranti, con consiglio, commissione e Parlamento che hanno trovato l'accordo politico sui principali punti della riforma. Secondo le notizie che sono circolate, il nuovo patto non prevede ricollocamenti forzati in tutti i paesi dell'Unione, ma contributi finanziari, si parla circa di 20.000 euro a immigrato, per i paesi che non accolgono fisicamente i migranti. Praticamente o ospiti o paghi, accontentando così anche Polonia e Ungheria che di nuovi ingressi proprio non ne volevano sapere. Ok anche alla nuova procedura rapida che prevede per i migranti che vengono accolti in centri di permanenza senza avere accesso al territorio dell'Unione Europea finché non si stabilisce se hanno diritto d'asilo o meno. A completare il quadro della settimana, una settimana storica per l'Unione Europea, è l'intesa raggiunta in seno al Consiglio Europeo del 14 e 15 dicembre con quasi l'unanimità dei capi di Stato 26 su 27, ufficializzando così l'inizio delle trattative per l'ingresso dell'Ucraina e della Moldavia. Una decisione che nonostante andasse presa all'unanimità visto il tema, ha trovato modo di vedere la luce grazie alla decisione di Orban di non presentarsi al momento del voto, dimostrando così il suo dissenso senza però bloccare i lavori del Consiglio. Orban ha poi dichiarato l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea una decisione sbagliata e l'Ungheria non cambia la sua posizione, ricordando ovviamente che il processo di adesione è lungo e sarà soggetto a ulteriori riflessioni. Fumata nera invece per quanto riguarda la revisione del bilancio pluriannale dell'Unione. Scendendo in Italia spicca ovviamente la quattro giornate di Atreiu che ha visto la partecipazione di importanti personalità della politica internazionale, il premier albanese, quello inglese, nonché il rappresentante di Vox Spagna, ma anche e soprattutto ha visto la partecipazione dell'uomo più ricco e probabilmente più influente del mondo, Elon Musk. All'evento poi dedicheremo anche una parte importante della puntata, quella che è stata la ringa conclusiva di Giorgia Meloni che commenteremo, come dicevo, dopo. Tra le questioni che hanno invece interessato più da vicino, più nel dettaglio, il dibattito parlamentare, sono state fissate finalmente in accordo tra maggioranza e opposizione le date per l'approvazione della legge di bilancio che verrà votata il 22 dicembre in Senato per poi chiedere il via libera alla Camera prima del weekend di Capodanno. A tal proposito sull'approvazione il governo sta pensando di porre la fiducia per evitare ulteriori rallentamenti che andrebbero poi a mandare all'Italia in esercizio provvisorio. Intanto si chiude l'iter del decreto anticipico legato alla manovra che ottiene il via libera definitivo alla Camera con 174 voti favorevoli, confermati nuovi fondi per il bonus psicologico, la prologa dello smart working per i genitori con i bambini under 14 e lo slittamento dei tempi di pagamento delle prime due rate della rottamazione Quater. Al via anche l'assegno di inclusione il provvedimento di sostegno sociale che sostituisce a partire da gennaio il reddito di cittadinanza. Da lunedì 18 dicembre i nuclei familiari con almeno una persona disabile minori over 60 o in condizioni di svantaggio possono presentare domanda sul sito dell'Inps o presso i patronati. Secondo le stime la platea di questo assegno di inclusione è composta da circa 737 mila nuclei familiari. Proseguendo oltre c'è da segnalare che dopo la riunione di martedì della cabina di regia del PNRR il ministro Fitto ha dichiarato che l'Italia sarà il primo paese europeo a chiedere la quinta rata pari a circa 10,5 miliardi di euro e lo farà entro fine anno. Praticamente a fare le riforme che vuole l'Europa questo governo sta dimostrando di essere davvero bravo. Chiudiamo infine ricordando le dichiarazioni del presidente del senato la russa che ha parlato di una riforma costituzionale necessaria per arginare i poteri informali del presidente della repubblica. Poteri che secondo la russa sono andati crescendo nel corso del tempo per supplire alle carenze della politica. Un'uscita da molti giudicati impropria e strategicamente poco conveniente. Probabilmente il governo sa che non c'è alcuna speranza di trovare un accordo con le opposizioni sul premiato e sta iniziando quindi a preparare il terreno per il referendum. Sul punto, sul finire della puntata, abbiamo preparato un approfondimento molto importante con un ospite speciale, esperta del tema. Mattarella nel frattempo, proprio in questi giorni, ha dato il via libera al protocollo d'intesa tra l'Italia e l'Albania, il protocollo sugli migranti. Adesso la palla passa al Parlamento che dovrà ratificarlo. Queste erano le notizie principali della settimana. Adesso in nostro servizio. Giorgia Meloni, è lei la protagonista indiscussa di questi giorni, durante i quali si è dovuta dividere tra l'importante Consiglio europeo e la manifestazione di Atreiu, due eventi fondamentali per tirare le somme di questo 2023 alla guida del paese. L'incontro dei 27 leader europei si prospettava fin dall'inizio molto teso, a causa dei temi caldi all'ordine del giorno. Per prepararsi meglio, Giorgia ha incontrato privatamente Macron e Schulz, leader con i quali nel corso di questi mesi il rapporto ha avuto alti e bassi. Al centro del trilaterale la posizione dell'Italia rispetto alle questioni sul tavolo. La nostra premier, infatti, ha cercato nel tempo di ritagliarsi un ruolo di mediatrice tra l'ala più europeista del continente e quella sovranista, non sempre raggiungendo i risultati sperati. Da convincere questa volta c'era Orban, vera e propria spina nel fianco del Consiglio rispetto alla questione dell'allargamento dell'UE, e rispetto alla revisione del bilancio comunitario. Al termine dei lavori la fumata bianca. Orban non si presenta al momento del voto e una quasi una limità prova all'inizio delle trattative per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Vertice storico a metà, come lo hanno definito. Perché se è vero che l'Unione Europea è riuscita a battere un colpo sull'allargamento, è pure vero che il premier ungherese non ha ceduto sulla revisione del bilancio comunitario, bloccandosi ai 50 miliardi di sostegno a Kiev, sia le risorse per le altre voci del budget, come la migrazione e l'innovazione. Venendo alla festa di Atreio, Kermes nata nel 1998 e di cui la stessa Meloni è tra le fondatrici, molto si può dire analizzando gli ospiti principali. Elon Musk ha rubato la scena con le sue dichiarazioni che strizzano l'occhio ai valori della destra. Mentre la presenza del premier albanese Rama e del corrispettivo inglese Sunak hanno confermato la triangolazione contro i trafficanti umani con due paesi extra UE. Presente anche il leader di Vox Spagna, Santiago Abascal. Giorgia Meloni ha chiuso la quattro giorni con un intervento di ben 70 minuti, rivendicando i risultati del governo e attaccando tutti. Da Ellie Schlein, l'unica che viene citata per nome a Giuseppe Conte, fino a Chiara Ferragni e Roberto Saviano. Una vera e propria ringa che a molti ha ricordato la Giorgia dei tempi dell'opposizione. Sarà forse che in vista delle elezioni europee la strategia è alzare di nuovo la voce? Allora eccoci tornati in studio, saluto subito i miei ospiti, l'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce, buongiorno. Buongiorno a tutti. E il professor Luca Lanzalaco, buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora professore, parto proprio da lei. Dicevamo tantissimi temi importanti questa settimana, nel 2023 si chiude in maniera scoppiettante e iniziamo a focalizzarci su quanto riguarda l'Italia in Europa, perché c'è stato il Consiglio europeo del 14 e il 15 dicembre, ma poi soprattutto ieri è stata finalmente, per alcuni diciamo, finalmente raggiunta un'intesa in seno all'Ecofin, alla riunione dei ministri dell'economia e delle finanze, una riunione poi particolare perché si è svolta in videoconferenza, è stato raggiunto definitivamente un accordo sul patto di stabilità che poi ovviamente dovrà essere discusso dai singoli governi. Ecco, allora iniziamo da qui, so che lei ha approfondito un po' la questione anche se è di poche ore fa, ci dica tutto. Sì, i giornali di oggi presentano la vicenda in modo abbastanza chiaro, cioè è stato raggiunto un accordo fra Macron e Scholz e questo accordo è stato poi presentato a Giorgia Meloni sotto forma di un out-out, cioè o firmi questo, alcuni giornali riportano in virgolettato, mi sembra forse un po' eccessivo, però così è, oppure i mercati reagiranno se solo l'Italia rimane fuori dall'accordo. Quindi dal punto di vista del metodo è stata di fatto una sconfitta dell'Italia che si è trovata letteralmente con le spalle al muro. Dal punto di vista del merito andiamo pure qui molto molto male perché il nuovo patto di stabilità di fatto magari un'altra volta, un'altra puntata, vediamo di ricostruirlo tecnicamente, dal punto di vista tecnico in maniera più dettagliata, però è stato presentato come un accordo che crea maggior flessibilità. In effetti così non è, perché la flessibilità si baserebbe, secondo l'accordo, sul definire delle fasce i paesi, quindi distinguere i paesi fra bravi e meno bravi a seconda della loro capacità di rispettare vincoli di bilancio, i soliti deficit e debito in maniera disciplinata, rigorosa e qualora questo non avvenga ci sarebbero giudizi negativi da parte della Commissione e lo slittamento di un paese a una classe meno virtuosa. Quindi questo è un meccanismo ideale per scatenare il panico sui mercati e per mettere in una posizione di debolezza, di vulnerabilità i paesi, primo fra tutti l'Italia, cioè l'Italia partirebbe immediatamente fra i paesi meno virtuosi e questo chiaramente verrà recepito dai mercati. Quindi il contenuto dell'accordo è assolutamente, io altrove l'ho definito una trappola, non è vero che c'è maggior flessibilità e questo lo dimostra una cosa, se ci fosse maggior flessibilità perché mai i mercati dovrebbero innervosirsi qualora l'Italia non firmasse, oggi l'ha firmato però qualora non firmasse l'accordo? Per quale motivo i mercati desiderano accordi più flessibili? Evidentemente sono accordi che introducono delle rigidità. È stato valutato, quale cifre ballano un attimo, però è stato valutato che questo accordo costerà l'Italia anno dopo anno dai 10 ai 15 miliardi, alcuni quotidiani danno 10 miliardi, altri la chiamano la zavorra 15 miliardi. Quindi vado a chiudere, questa nuova procedura porta sicuramente all'austerità perché o si aumentano le tasse, ma questo governo ha già fatto capire che non intende agire su quella leva, oppure si tagliano le spese. Quindi è un accordo che porterà sicuramente a politiche di austerità. Questo per dare un aggiornamento veramente in tempo reale, stanno discutendo in commissione la ratifica o meno del cosiddetto nuovo MES e questo pare stia creando grossi problemi perché c'è una parte della maggioranza disponibile alla ratifica e un'altra, segnatamente la Lega, che invece è assolutamente contraria. Quindi ho l'impressione che il pacchetto Meloni era l'idea di scambiare la ratifica del MES in cambio di un accordo più soft per quanto riguarda di vincoli di bilancio sia saltato. Cioè l'Italia uscirà molto probabilmente sia ratificando il MES che venendo penalizzata sui mercati nei prossimi anni. Addirittura, se non sbaglio, un articolo di Repubblica parla di una forma di commissariamento dell'Italia. Nei fatti non compare il termine nei documenti ufficiali ovviamente, ma sia quasi un commissariamento perché tutti i piani di spesa dovranno essere nei prossimi o 4 o 7 anni concordati con la commissione. Cioè l'Italia non avrà più autonomia, ripeto, da 4 ai 7 anni, a seconda della capacità di rientro dal deficit e soprattutto dal debito, non avrà più autonomia nel campo delle politiche economiche. Quindi debacle su tutti i fronti. Professore, la ringrazio anche di questo aggiornamento in tempo reale. È chiaro che se lei dovesse avere ragione, cosa che è molto probabile, visto che si è preparato abbondantemente sul tema ed è un tema che stiamo affrontando da tempo, ovviamente come diceva lei, questo vuol dire che la strategia di Giorgia Meloni è stata completamente fallace, è stata completamente distruttiva per quelli che poi sono gli interessi italiani in campo economico e ovviamente in rapporto con l'Unione Europea. Umberto, vengo da te perché questa è stata una settimana storica come l'hanno definita per tanti motivi in seno all'Unione Europea, non soltanto per il patto di stabilità, argomento che ballava da tempo, ma anche perché è stato trovato un accordo sul nuovo patto per l'immigrazione, su cui sicuramente poi torneremo a parlare, ma soprattutto nel Consiglio Europeo di metà dicembre, del 14-15 dicembre, l'Unione Europea, il Consiglio Europeo e quindi l'Unione Europea tutta, ha trovato un accordo per aprire definitivamente i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina e della Moldavia. Dei negoziati molto duri in seno al Consiglio, in seno ai 27 leader e capi di Stato, che dovevano trovare un accordo all'unanimità alla fine però un accordo è stato raggiunto quasi all'unanimità perché Orban, il premier ungherese, non si è presentato al momento del voto e quindi in questo caso le procedure permettono comunque agli altri capi di Stato di votare, quindi 26 su 27 hanno detto di sì, uno non si è presentato e ufficialmente l'Unione Europea può iniziare i negoziati per l'ingresso di questi altri due stati. Ricordiamo che comunque l'Ucraina è ancora in guerra, quindi si tratta di iniziare il processo di inclusione di un paese in guerra, di un paese anche che si è reso responsabile, ormai lo sanno tutti, di quella che è stata la distruzione del gasdotto che collegava la Russia con l'Europa e che quindi insomma era la principale fonte di approvvigionamento anche energetico. Secondo te questo allargamento come deve essere affrontato, come deve essere letto e se insomma potrà provocare una maggiore distanza poi tra i nostri leader e il mondo russo? Eh sì, la preoccupazione è proprio quella. Poi la dinamica con cui si attuerà questa inclusione si vedrà poi nelle trattative, però ecco, secondo me è un tema che è fondamentale che venga posto immediatamente ai leader europei in modo che essi si esprimono chiaramente su quali sono le intenzioni dell'Europa e proprio la relazione che si verrà a instaurare con il mondo russo in particolare. E questo tanto più che i trattati europei prevedono espressamente l'assistenza militare fra i membri e quindi mi riferisco al paragrafo 7 dell'articolo 42 del Trattato di Lisbona che prevede esplicitamente l'assistenza anche militare fra i membri dell'Unione Europea nel, diciamo, così all'interno di quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, il quale articolo esplicitamente prevede l'autotutela e l'autodifesa militare nei confronti di un'aggressione militare. Questo cosa significa? Significa che il Trattato europeo prevede espressamente che i paesi europei devono, devono, non possono, devono intervenire anche militarmente con tutte le loro risorse necessarie, espressamente detto, a difesa di un paese dell'Unione Europea aggredito militarmente. Quindi è evidente che includere tra i paesi europei un paese che in questo momento sta subendo un'aggressione militare, al netto delle complesse motivazioni che ci sono dietro, questo significa che di fatto l'Europa sta firmando l'entrata in guerra diretta con la Russia fondamentalmente e poiché i paesi dell'Unione Europea in gran parte sono anche membri della Nato, significa che comunque c'è una sicura entrata in guerra dell'Unione Europea direttamente contro la Russia e una molto probabile ingresso anche della Nato, cosa che in realtà è già tecnicamente così, però diventerebbe ufficiale. Quindi questo significa che i nostri leader europei ci stanno portando in una dimensione bellica, diretta, esplicita con la Federazione Russa e allora è bene che se ne parli, è bene che almeno chiariscono se questo è un punto che verrà trattato nei negoziati o se faremo finta che non esista questo articolo dei trattati e poi scopriremo quando l'Ucraina è in guerra che siamo tutti in guerra con la Russia perché lo prevede nei trattati. Quindi ecco questo secondo me è l'aspetto più problematico o meno che destra maggiore preoccupazione di questo allargamento così rapido e che ha motivazioni evidentemente anche politiche. Sì sì assolutamente insomma è chiaro che il processo di integrazione sarà molto lungo ma la tua prospettiva è giusta nel senso è chiaro che se poi dagli stessi trattati dell'Unione Europea si evince che c'è un aiuto anche militare ed è ovvio che poi essendo molti paesi anche membri della Nato è chiaro che stiamo andando incontro a un conflitto che sarà perenne, che sarà costante nel futuro e anzi poi probabilmente si aggraverà molto molto di più. Ecco diciamo purtroppo dobbiamo sperare in Orban che si è messo di traverso anche se non del tutto visto che poi comunque l'ufficializzazione dell'inizio dei negoziati c'è stata però lui ci ha tenuto a sottolineare che essendo il procedimento molto lungo ci sarà la possibilità di ritornarci sopra per comprendere quali possono essere le ripercussioni. E' lo stesso premier ungherese poi invece non ha votato a favore del nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina nella revisione del bilancio, si parlava di 50 miliardi di assistenza pluriennale ecco questi 50 miliardi non hanno raggiunto l'unanimità, almeno questo. Comunque secondo me c'è anche da dire, solo un veloce commento, che tutto questo secondo me espone anche un pericolo ulteriore nel senso che osservando la psicologia anche del governo russo è verosimile che non attenderà che l'Ucraina effettivamente entri in Europa e quindi disponga di tutto l'esercito europeo di cui si parla o comunque dei vari eserciti nazionali per avere uno scontro diretto con tutti insieme. Evidentemente vedendo anche come era agito l'espansione della Nato o comunque come la linea rossa che è stata messa di fronte a quelle che vengono percepite come minacce la sicurezza russa, ecco insomma il pericolo vero è che l'escalation avvenga ben prima perché l'orso russo non aspetterà che vengano definiti i stati per reagire a una potenziale minaccia alla propria sicurezza. Assolutamente, anche perché poi si parla di Ucraina, Moldavia e addirittura si è dato l'ok anche per iniziare a tastare il terreno sulla Georgia, quindi un accerchiamento sempre maggiore nei confronti della federazione russa. Beh, ci ritroveremo sicuramente a riparlarne speriamo non in maniera troppo negativa perché l'estremizzazione del conflitto non conviene a nessuno. Passiamo invece al tema italiano, diciamo a quello che riguarda la festa che c'è stata la festa dei fratelli d'Italia, la festa della destra italiana, della giovane destra italiana mi riferisco ovviamente alla Kermess di Atreiu, una Kermess che dicevamo ha visto tanti ospiti importanti tra cui Elon Musk e alcuni leader, soprattutto leader non europei come il leader albanese e il leader inglese Sunak. Allora noi, anche grazie al professor Lanzalaco, abbiamo preparato uno spezzone di circa 9 minuti, 9-10 minuti con i punti principali del discorso molto lungo, circa 70 minuti se non di più, che ha fatto Giorgia Meloni in chiusura di questa quattro giorni. Noi abbiamo selezionato quattro momenti chiave rispetto a quello che già il mainstream ha mostrato. Inizialmente ovviamente l'introduzione di Giorgia Meloni a quello che è il progetto di Fratelli d'Italia, l'Italia che lei ha trovato quando è diventata presidente del Consiglio, poi passaggio sull'immigrazione, passaggio sulla nuova Europa, sull'Europa che sarà, quindi una confederazione oppure una federazione come gli Stati Uniti e infine la riforma costituzionale e l'attacco ai governi tecnici. Vediamo il contenuto di puntata. Noi siamo arrivati al governo perché c'era un'Italia dimenticata e umiliata da anni di governi di sinistra, l'Italia del lavoro, del merito, dell'intraprendenza imprenditoriale, della famiglia che è maggioritaria ed era stanca di essere scavalcata dai furbi e dai privilegiati, in una società nella quale per andare avanti dovevi soprattutto far parte del giro giusto di amicizia. L'Italia di chi non chiede favori ma pretende di vedere riconosciuti i suoi meriti, di chi non vuole scorciatoie e si rimbocca le maniche ma non accetta di lavorare duramente e magari prendere uno stipendio insufficiente per pagare tasse che servono a dare la paghetta a chi non ha voglia di lavorare. Sull'immigrazione io so bene che i risultati non sono quelli che ci si attendeva. È chiaramente il fenomeno più complesso che mi sia trovata a gestire in un'epoca comunque piena già di fenomeni complessi. Però la verità è che non mi interessano le scorciatoie che fingono di risolvere il problema per un po' e sono pronta a pagare un prezzo in termini di consenso immediato per provare a fare quello che nessuno è riuscito a fare fin qui, che è dare una risposta vera, strutturale, definitiva a questo problema. Per fare questo abbiamo fatto un lavoro molto ampio, da una parte i decreti d'urgenza, i diversi decreti che abbiamo approvato col governo, dall'altra io so portando avanti personalmente un estenuante lavoro di tessitura, di rapporti insieme all'Unione Europea, al di là dei confini europei per coinvolgere tutti su un fenomeno di portata globale che ha bisogno di una risposta globale. Oggi tu puoi comprare un biglietto in Bangladesh ed arrivare in Italia dalla Libia attraversando almeno quattro nazioni. Racconta la portata del fenomeno e non è un fenomeno che una nazione riesce a gestire da sola se non costruisce un quadro di alleanza. La buona notizia è che è un fatto che in ogni consenso internazionale nel quale ci si trovi a parlare di immigrazione, quando si parla di immigrazione tutti guardano noi. E voglio ringraziare, guardate Rishi Sunak perché intanto per il lavoro che stiamo facendo insieme su questo, Rishi anche sta facendo un lavoro straordinario particolarmente sul tema dell'immigrazione ma lo voglio ringraziare per aver riconosciuto pubblicamente ieri da questo palco la nostra leadership globale in tema di immigrazione illegale. Rientra chiaramente in questo quadro l'accordo che abbiamo stipulato con l'Albania, un accordo che prevede la realizzazione di due strutture per la gestione dei migranti sul territorio albanese sotto giurisdizione italiana e possono ospitare fino a 36 mila migranti l'anno se saremo bravi. Il messaggio che abbiamo dato è chiaro, lo abbiamo diffuso anche nei paesi di provenienza e di transito, non affidatevi ai trafficanti di esseri umani, vi chiedono molti soldi, mettono a repentaglio le vostre vite, rischiate di ritrovarvi in una nazione che neanche è l'Italia e in ogni caso se non avete diritto d'asilo verrete prima trattenuti e poi rimpatriati. Voglio per questo accordo ringraziare ancora il primo ministro Rama e voglio esprimergli la mia solidarietà per gli attacchi che ha ricevuto dagli italiani, da alcuni italiani, particolarmente da quel partito democratico che lo ha minacciato di farlo espellere dal partito socialista europeo perché ci aveva dato una mano, evidentemente aiutare l'Italia non è di sinistra per il PD, ma io invece credo che Eddie Rama abbia fatto una cosa bella e penso che per questo vada ringraziato. Ai giornalisti che si affannano a ragionare sulle maggioranze che si forneranno a Bruxelles dopo il prossimo 9 giugno io dico questo, chi vota Fratelli d'Italia non lo fa per cervellotiche lucubrazioni tattiche, lo fa innanzitutto per appartenenza nazionale ma lo fa anche per appartenenza al sogno europeo, un sogno del quale noi ci nutriamo dal secolo scorso, fu qui a Roma 66 anni fa, che il sogno di pochi divenne la speranza di molti, che si forgiò un'alleanza tra popoli che per secoli si erano combattuti l'un l'altro, fu qui a Roma che tra le righe di un trattato si definì per la prima volta il concetto di comunità d'Europa e non fu una buona notizia per tutti, con 311 voti a favore, democristiani, repubblicani, liberali, missini e monarchici decidono un futuro fatto di solidarietà tra i popoli europei, dall'altra parte comunisti e socialisti votano contro, preferendo la loro adesione all'internazionale socialista, per questo o almeno anche per questo i loro discendenti per favore non vengano a darci lezioni in tema di Europa, perché la storia siamo noi. Noi che all'Europa abbiamo dedicato, voglio dire, canzoni e manifesti fin da quando eravamo tra i banchi di scuola e che per questo oggi la difendiamo, da chi vorrebbe farne un surrogato dell'Unione Sovietica, un gigante in termini di burocrazia e di rigismo, un nano politico in termini di visione, nascosto agli occhi della volontà popolare. Allora nella campagna elettorale per le elezioni del prossimo giugno mezzo miliardo di persone sarà messo di fronte alla scelta fra una confederazione di nazioni libere e sovrane e un super stato federalista che cancella le nazioni, relegandole al ruolo di enti meramente amministrativi. In questo memorabile appuntamento con la storia noi difenderemo il nostro futuro e con lui il nostro passato. Cullammo il sogno di un'Europa unita per dare forza alla nazione alla quale apparteniamo per destino e per volontà, non per disintegrarla e con lei disintegrare tutti i sacrifici che sono serviti a realizzare. Non faccia l'Unione Europea quello che le nazioni possono meglio fare da sole e viceversa. Questa è l'idea che noi difenderemo il prossimo 9 giugno. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Noi sapremo farci trovare pronti, questo sarà anche l'anno delle riforme con cui cambieremo l'architettura istituzionale con l'elezione diretta del capo del governo. Una norma che consente a tutti gli italiani di decidere da chi farsi governare. Impedisce i governi confezionari del palazzo, i ribaltoni, i tecnici che ci spiegano la politica. Una norma che assicura ai governi la stabilità della quale hanno bisogno per realizzare una visione di lungo periodo, per dare una strategia a questa nazione. E state certi, ve lo dico oggi, che contro questa possibilità si scateneranno tutti quelli che hanno bivaccato sulla debolezza della politica. Perché quando la politica è debole sono altri a comandare. Ma il punto è sempre lo stesso. Per noi la politica è uno strumento nelle mani dei cittadini, per altri erano i cittadini a essere uno strumento nelle mani della politica. Bisogna decidere da quale parte si vuole stare. E loro sognano di usare il referendum confermativo per mandarmi a casa. Ma il referendum non è su di me, io sono il presente. Il referendum è sul futuro di questa nazione. E stavolta, sapete cosa? Quel futuro sarà nelle mani non dei partiti, non dei burocrati, non dei poteri forti, non dei giornali, ma degli italiani. E se c'è una cosa che io ho imparato è che gli italiani sono molto più consapevoli di come certo mainstream li rappresenta. Ecco professore, allora, visto che lei ha selezionato, insomma è stato colui che ha avuto la forza di vederlo tutto fin dall'inizio, lascio a lei un primo commento, come valuta questa quattro giorni, come valuta l'intervento della Meloni, cosa possiamo ricavarne? Ma la quattro giorni nel suo complesso non ho idea, ecco nel senso che ho letto quello che abbiamo letto tutti sui giornali, ci sono stati molti ospiti, dibattiti anche con esponenti di forze e di mass media apertamente contrari a Fratelli d'Italia, all'attuale governo. Focalizzerei quindi l'attenzione sul discorso finale di Giorgia Meloni e vorrei, ecco, evito accuratamente tutte le critiche che sono state fatte perché la Meloni non ha detto che il PIL non va poi così bene, non ha parlato di questo, non ha parlato di quest'altro, chiaramente lei ha parlato delle cose che secondo lei il governo ha fatto in positivo, non certamente a esporre i limiti del suo governo, c'è solo un passaggio apprezzabile a mio parere, dove lei ammette che, cioè quello relativo all'immigrazione, dove lei ammette che il governo ha delle serie difficoltà. Ecco, detto questo, quindi io evito tutte le critiche, vorrei focalizzare l'attenzione sul valore aggiunto di questo lungo discorso dove la Premier ha saputo miscelare opportunamente, alternare opportunamente il toni da Presidente del Consiglio, da militante e anche toni più intimistici, ha questa capacità anche di dire battute, di mimare i suoi stadiali, quindi potremmo dire ecco Giorgia Unetrina perché ha saputo alternare nell'intervento tutti e tre questi toni. Cosa mi ha colpito? Qual è il valore aggiunto? Allora, il primo, questa analisi molto precisa, puntuale, definitiva direi, della strategia politica del suo governo, cioè lei ha individuato esattamente, ha spiegato esattamente qual è il bacino elettorale a cui il governo si rivolge e il bacino elettorale di quelle piccole imprese, piccole e medie imprese, quell'Italia che lavora, quell'Italia che fa fatica a tirare avanti, vessata dalle tasse e tende anche a non pagarle, quindi il nerbo della nazione al quale sono stati negati i diritti, è stata ignorata, è stata, ecco, quindi questo è il target direbbe un esperto di marketing del governo, onora il merito averlo individuato con grande chiarezza, cioè non è facile, non è frequente che un leader politico individui, spieghi con tale chiarezza qual è la linea del suo governo. punto 2 è stata molto chiara anche nel individuare i punti cardine che fra l'altro noi avevamo già individuato in varie puntate del suo governo, quindi largo spazio all'economia, all'aiuto alle famiglie disagiate, largo spazio alla sicurezza e qui entrata nel merito sui vari decreti, ha dedicato particolare attenzione alla situazione di Caivano e quindi sicurezza, l'adesione alle forze in appoggio all'Ucraina e i fondi stanziati per la tutela delle donne, quindi ha individuato queste linee guida entrando anche nel merito proprio, ripeto, si ritrovano contenuti che noi avevamo già analizzato, dei singoli provvedimenti, quindi ha tracciato per esempio sulla sicurezza lei traccia tutto il percorso partendo dal decreto RAVE fino all'ultimo decreto. un passaggio fondamentale è quello dove lei delinea quello che secondo lei dovrà essere e ha ragione su questo, ha ragione, lo scenario della campagna elettorale, cioè lei dice, ha detto, si contrapporranno due strategie, chi vuole una confederazione di stati e chi invece vuole gli Stati Uniti d'Europa, sappiamo chi sono i secondi, ne abbiamo già scritto e parlato di questo. Ecco, io mi auguro che questa chiarezza nella contrapposizione tra questi due fronti, Giorgia Meloni riesca a mantenerla, perché il rischio grosso, ne parlavo anche con non in sede scientifica, però con colleghi, corriamo un grosso rischio ed è quello che la campagna elettorale per le europee sia centrata su tutt'altro i temi e non si parli d'Europa. Chiudo con una nota ma fatto quasi ridere, dopo queste dichiarazioni, proprio a seguire le dichiarazioni di Meloni, Andrea Orlando, ex ministro del lavoro, esponente di spicco del Partito Democratico, immediatamente ha rilasciato un'intervista dove dice, ecco, non riduciamo la campagna elettorale a un conflitto, un contrasto fra file europeisti e anti-europeisti. mi è venuto da ridere perché ho detto, ha capito tutto, ecco, è proprio esattamente quello che invece dovrà avvenire durante la campagna elettorale dove confronto serrato e analisi, io mi auguro, anche un minimo fondata su basi scientifiche, pragmatiche, empiriche, che si devono necessariamente esplicitare. Cioè è un confronto che non si può più evitare. I giochini delle tre carte non funzionano più, fra l'altro, ma ha colpito che di fronte a queste dichiarazioni, dove chiaramente Meloni ha espresso il suo parere favorevole a una struttura confederale, poi abbia dovuto pochi giorni dopo accettare il nuovo patto di stabilità e vediamo cosa succede con Meloni, ma fermiamoci al nuovo patto di stabilità, che invece va esattamente nella direzione, chiaramente, degli Stati Uniti d'Europa a struttura federale. Quindi alle parole, purtroppo, a parole giuste, sono seguiti, fatti, ahimè, invece, deludenti. E' che questo, diciamo, è forse anche un po' la nostra preoccupazione, nel senso che l'elettorato, quando ha votato Giorgia Meloni, a settembre dell'anno scorso, diciamo, a settembre del 2022, pensava di trovare lei una leader che portasse risultati diversi rispetto a quelli che poi sono avvenuti in molti campi. Quindi speravano che alle parole facesse seguire i fatti, invece, a distanza di un anno e due o tre mesi, invece ci rendiamo conto che spesso quello che Giorgia Meloni propone, ma in generale anche quello che la destra propone in Italia, poi difficilmente trova riscontro nel dibattito europeo. Umberto, chiudiamo con te questa parte dedicata ad Atreiu, perché mi ha stupito molto che ci fossero, non ci fosse nessun, diciamo, capo di Stato europeo e vabbè, questo forse ce lo potevamo anche aspettare. Però in realtà era presente il leader di Vox Spagna, un caro amico, diciamo, di Giorgia Meloni, che non era presente quando invece Matteo Salvini ha riunito tutte le destre europeiste in vista delle elezioni, in vista delle elezioni del 2024, e poi soprattutto c'erano due leader extraeuropei, Albania e Inghilterra, con cui Giorgia Meloni dice di stare affrontando in maniera molto seria il discorso sull'immigrazione, al di là ovviamente del dibattito in seno all'Unione Europea. E poi soprattutto c'era Elon Musk, una persona che possiede circa 5.000 satelliti, più di qualsiasi nazione, che possiede una casa automobilistica che praticamente ha lanciato l'elettrico, una persona che può influenzare le scelte anche dei governi. Ecco, allora qual è il tuo parere ovviamente sia sul discorso che ha fatto Giorgia Meloni, ma anche su questi ospiti che lei ha voluto intorno a sé? A me, sinceramente, in generale l'impostazione della Meloni mi ha comunicato una certa ambiguità dovuta forse, o in coerenza anche da un certo punto di vista, dovuta forse anche alla posizione delicata in cui si trova e in cui secondo me è evidente, è una situazione che le provoca un evidente disagio, cioè l'essere stretta fra ideologia e prassi. Cioè, da una parte Giorgia Meloni ha fondato la sua carriera politica su posizioni ideologiche forti, dall'altra ora che si trova in posizione di responsabilità si trova a dover mediare le proprie posizioni e per adesso mediarle su posizioni deboli, come per esempio la questione del patto di stabilità. E questo fa sì, secondo me, che si annacqui un po' la posizione ideologica di Fratelli d'Italia, che per dire, insomma, da un lato si scaglia contro gli influencer, dall'altro ha un ministro che ha proposto l'influenza delle scuole per aiutare i giovani, quindi da una parte contro un modello in cui produrre è meglio che mostrare, come ha detto, dall'altra però pensa agli stessi influencer per influenzare i giovani. da una parte, insieme anche al suo alleato, diciamo, alleato ideologico di Vox, propone un modello basato su famiglia e Stato e dall'altro invita questo imprenditore che rappresenta quella, sì, magari una classe così elitaria, meno progressista, però pur sempre una classe elitaria, a creare e rappresenta sempre quella classe, diciamo, apolide, comunque, si sa anche bene dov'è, sudoafricano, mezzoamericano, mezzocanadese, no? Poi che ha anche un figlio, no? Non voglio andare nel particolezzo in cui non mi interessa, però che evidentemente rappresenta come valori e come scelte di vita tutta una serie di posizioni che sono abbastanza lontane al modello proposto dei fratelli d'Italia. Quindi ecco, a me l'impressione che mi ha dato questa kermesse, diciamo, è questa incoerenza un po' ideologica di comunque un movimento che è in crisi, che non sa bene come collocarsi e che probabilmente dovrà ben chiaro quali sono gli elementi dominanti, la scena politica e anche sociale e rischi connessi nel prossimo futuro. Perché tra l'altro Elon Musk è anche legato all'intelligenza artificiale, è un progetto transumano, le dichiarazioni stesse di Musk, per esempio, sull'anima o su comunque come, diciamo, bit scaricabile e quindi in generale anche su una digitalizzazione integrale anche del biologico e dell'essere umano, cozzano un po' con una visione, diciamo, più conservatrice che la destra vorrebbe portare in Europa. Quindi, ecco, io definirei un po' con il marchio di incoerenza e con una volontà di parlare molto alla pancia, però un po' anacquata da una politica pratica che si è già scontrata e si è già macchiata delle incoerenze a cui il potere e l'esercizio del potere obbliga chi lo esercita fondamentalmente. Assolutamente, Umberto, anzi concordo molto con la tua analisi, quindi ti ringrazio di averla esposta in maniera così chiara. Allora, signori, visto che adesso lasciamo i nostri spettatori con un approfondimento molto importante, un approfondimento che è stato fatto dalla professoressa Selena Grimaldi, che è una collega del professor Lanzalaco, che è un'esperta di quelli che sono i poteri dei presidenti in seno all'Europa. Infatti lei ha anche scritto un libro da poco pubblicato, The Informal Powers of Western European Presidents, quindi i poteri informali dei presidenti dell'Europa occidentale. Noi l'abbiamo voluta sentire proprio su quello che è stato, chiamiamolo così, il caso La Russa, cioè queste uscite che il presidente del Senato, quindi la seconda carica dello Stato, ha fatto parlando di un presidente della Repubblica che in Italia nel corso del tempo ha ampliato molto i suoi poteri rispetto a quelli che erano previsti dai padri costituenti. Lui poi ha detto ovviamente a causa della mancanza, diciamo, delle mancanze del potere politico. E quindi la Russa giustificava così la necessità di questa riforma costituzionale che invece, secondo la sua opinione, andrebbe a riportare al presidente della Repubblica a quei poteri che lui dovrebbe esercitare, che sono stati previsti dai padri costituenti. Quindi noi abbiamo invitato la professoressa Serena Grimaldi, che è un'esperta del tema, per parlare approfonditamente di quanto è avvenuto, chiedendo anche di chiarirle la differenza tra poteri formali e poteri informali, poi dei presidenti non solo italiani ma anche a livello europeo. È un approfondimento che dura circa 15-20 minuti e lo lasciamo insomma ai nostri spettatori. Io invece ne approfitto per ringraziarvi di essere stati con me anche oggi e vi auguro ovviamente buone feste e buon Natale, perché poi ci rivediamo dopo Natale. Buona vacanza a tutti, buone feste a tutti. Buone feste, salute. Buone feste anche ai nostri spettatori. Buongiorno, abbiamo il piacere di avere ospite con noi nuovamente la professoressa Serena Grimaldi per affrontare insieme a lei, esperta del tema, quelle che sono state le ultime dichiarazioni del Presidente del Senato, Ignazio Larussa, che come vi ho anticipato anche nella parte iniziale della puntata, nella parte delle notizie, insomma forse sono state un po' frettolose rispetto a quello che è un tema così importante come quello della riforma costituzionale. Buongiorno professoressa. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei, grazie a lei. Lei è un'esperta del settore di quelli che sono i poteri dei Presidenti soprattutto europei nei vari sistemi di governo europei, infatti lei ha scritto il suo ultimo libro, se Giulio ci può aiutare anche con la regia, The Informal Powers of Western European President. Ecco, allora io prima di tutto le vorrei chiedere, visto che insomma le dichiarazioni di Ignazio Larussa hanno fatto molto discutere e magari le vediamo poi insieme nei prossimi contenuti, ma prima di tutto se lei ci può fare una panoramica sulla differenza tra i poteri formali e informali dei Presidenti della Repubblica. Certo, allora come spiego nel mio libro e cerco appunto di dare una definizione, mentre i poteri formali sono chiaramente codificati nelle Costituzioni, i poteri informali non sono chiaramente codificati nelle Costituzioni. Anzi, spesso diciamo non sono chiaramente riconoscibili, possono essere pubblicizzati quando per esempio il Quirinale fa una nota sul sito appunto del Quirinale, oppure possono essere nascosti, nel senso che l'opinione pubblica non viene a sapere della conoscenza di questi poteri informali che vengono pure esercitati. Quando per esempio il Presidente scambia delle conversazioni tra porte chiuse, oppure fa una telefonata, chiaramente in questi casi facciamo fatica a capire se questi poteri si sono concretizzati o meno. Altra differenza è che mentre per i poteri formali esistono delle sanzioni legali in caso di abuso, come per esempio la procedura della messa in stato d'accusa, cioè l'impeachment, per i poteri informali non esistono sanzioni legali, ma esistono però delle sanzioni sociali. Faccio un esempio, il Presidente tedesco Köhler fece una dichiarazione rispetto all'intervento della Germania in Afghanistan, l'intervento militare, chiaramente intervento che non piacque a gran parte dell'opinione pubblica e neanche al partito e al governo in quel momento, in particolare la cancelliera Angela Merkel, e questo disappunto finì per costare le dimissioni a questo Presidente che decise poi alla fine di dimettersi. Quindi anche la sanzione sociale può essere molto efficace. Altra differenza, diciamo, mentre l'attuazione di un potere formale è molto chiara e diretta, c'è una procedura, diciamo, specifica, per quanto riguarda l'attuazione dei poteri informali, ecco, questi spesso sono attuati in modo ambiguo e spesso in modo indiretto. Non è, diciamo, lo stesso Presidente a effettuare la decisione, ma magari un altro attore. Pensiamo, ad esempio, quando il Presidente del Consiglio depenna dalla lista un ministro sul suggerimento del Presidente della Repubblica, però, diciamo, l'azione finale è quella appunto del Presidente del Consiglio e non del Presidente della Repubblica. Infine, la legittimità dei poteri formali ovviamente deriva dalla Costituzione, mentre per quanto riguarda i poteri informali questa deriva invece dall'accettazione sociale. Quindi, per fare qualche esempio concreto, i poteri informali possono avere una funzione sostitutiva, cioè sostituiscono una funzione che chiaramente non c'è in Costituzione. Ad esempio, appunto, il veto di un ministro, la proposta di un ministro, che sarebbero poteri, diciamo, in capo al Presidente del Consiglio, oppure la richiesta di alcune formule coalizionali specifiche. Questo è successo, per esempio, in altri paesi, oltre che al nostro, come la Germania e l'Austria, quando i Presidenti hanno fatto pressione per le grandi coalizioni, ad esempio. Possono avere una funzione parallela, cioè un potere formale esiste, come il potere di rinvio di una legge, ma ciò nonostante i Presidenti utilizzano un potere informale, che è il veto parziale, o come diciamo noi in Italia, la moral suasion, cioè chiedono che una legge venga, diciamo, in parte rivista, appunto solo in una parte, e decidono di non bocciarla in tronco. E questa prassi non esiste solo in Italia, ma esiste anche in Portogallo, per esempio, dove c'è un Presidente che anche formalmente è un po' più forte del nostro. Abbiamo poi dei poteri informali che io ho definito come di assunzione del rischio, cioè sono usati per rimarcare una posizione divergente rispetto a quella di altre istituzioni, evitando di usare un potere formale che pure esiste. È il caso in Italia della promulgazione con riserva, o promulgazione dissenziente, come l'hanno chiamata alcuni giuristi, cioè una prassi in cui il Presidente promulga la legge, la firma, però contestualmente scrive una nota in cui spiega perché quella legge non lo convince del tutto. Ci sono anche dei poteri informali che hanno una funzione diciamo sovversiva, cioè sono usati per coprire funzioni che non sono attribuite formalmente i Presidenti con un intento di delegittimazione. Per esempio, l'intervento in politica estera spesso ha questa caratteristica perché è in capo chiaramente al governo, eppure il Presidente a volte tende ad attribuirsene la funzione, come è accaduto in Finlandia, ad esempio, quando la Presidente Halonen, in quel caso, rivendicava il suo dominio nella politica estera. E in particolare in quella europea, che invece poi la Costituzione successivamente fece una modifica costituzionale, attribuì invece al Primo Ministro. Quindi, diciamo, i poteri informali sono usati in tutte le forme di governo conosciute, sia dai Presidenti che operano nel contesto presidenziale, sia da Presidenti che operano in contesto semipresidenziale, sia in contesti ovviamente parlamentari. Quindi, con buona pace la russa, probabilmente i Presidenti utilizzeranno comunque i loro poteri informali, anche con questa riforma che vogliono attuare appunto del Premierato. Perché ciò che sfugge al Presidente del Senato è che i poteri informali si dispiegano, e hanno spesso successo, in presenza di due elementi. Il primo sono le situazioni di debolezza del governo, oppure quando intervengono delle crisi esterne, che nulla hanno a che fare con l'impianto istituzionale, ma derivano da elementi squisitamente politici o contingenti. Il secondo elemento è la contemporanea forza politica del Presidente, cioè il suo elevato supporto pubblico, la sua elevata reputazione, il suo elevato professionismo politico. Quindi i poteri informali poggiano sulla legittimazione sociale e non costituzionale, di conseguenza un Presidente amato con alto capitale politico potrà esercitare i suoi poteri informali e ottenere ciò che chiede, sia che sia eletto direttamente, sia che sia eletto indirettamente, come sostengo e dimostro in questo libro, e sia molto probabilmente anche se il capo del governo sarà eletto direttamente. Ecco, professoressa, grazie mille. Venendo a Mattarella poi allo specifico, perché lei ci ha fatto una bellissima panoramica di tutto quello che accade in Europa con i diversi sistemi ovviamente parlamentari e di governo. Uno degli esempi classici, insomma, parlando di Mattarella che mi viene in mente, è quando disse no a Savona come Ministro dell'Economia, ad esempio nel 2018. Ma anche venendo un po' più ai giorni nostri, forse qualcosa di meno importante, ma comunque che ha interessato anche noi di Polis, che ne abbiamo parlato, è quando si parlava di questa possibilità che Mattarella mettesse il veto al disegno di legge sulla carne artificiale perché si aspettava l'ok dell'Unione Europea. Vedo che poi non c'è stato e comunque il disegno di legge è passato. Allora, se può farci degli esempi tutti italiani su Mattarella, ma anche sui suoi predecessori magari? Certo. Allora, nel caso del veto, diciamo, a una legge, appunto, diciamo, il potere di rinvio alle leggi, questo è un potere formale e quindi Mattarella decide naturalmente se ci sono gli estremi per chiedere una nuova deliberazione alle Camere. Però, diciamo, esempi di poteri e dell'esercizio, di quelli che io definisco poteri informali dei presidenti italiani, ci sono stati, non solo, diciamo, dagli anni 90 in poi, quindi quella che viene definita come seconda repubblica. Pensiamo, per esempio, al presidente Gronchi, quando chiese la nomina di Tambroni a ministro dell'interno durante il governo Segni nel 55, oppure quando Saragat cercò in tutti i modi di preservare la formula di governo del centro-sinistra. Ancora, quando Pertini chiese due vice-presidenti del Consiglio, la Malfa e Saragat, poi Saragat rifiutò nel 79 con il governo Andreotti, oppure quando con il governo Cossiga del 1980 chiese di non nominare ministri in odore, le parole esatte furono in odore di corruzione. Ancora, Scalfaro, quando si rifiutò di nominare Previti come ministro della giustizia, poi ovviamente non fu espunto totalmente dalla lista di ministri perché divende ministro della difesa. Ciampi chiese la nomina di Ruggeri come ministro degli esteri durante il governo Berlusconi del 2001. La moral suasion che lo stesso Ciampi fece durante tutto il suo mandato, soprattutto sulle leggi cosiddette ad persona, ma che riguardavano appunto Berlusconi, la Cirami, per dirne una, una sulle immunità delle più alte cariche dello Stato. Napolitano ha usato molto di più la cosiddetta moral suasion rispetto al potere di rinvio e soprattutto contro la decretazione d'urgenza e anche quando aveva dei ministri del Consiglio affini, quindi non solo durante i governi Berlusconi, ma anche durante i governi Monti, durante i governi Letta. E naturalmente sì, poi c'è anche il caso del veto a Gratteri come ministro della giustizia o la richiesta di Padoan come ministro delle finanze. Invece la richiesta di avere Labonino come ministro degli esteri fa lì durante la composizione del governo Renzi del 2014. Quindi diciamo il veto a Savona è un esempio, diciamo emblematico, probabilmente quello più vicino a noi, ma contestualmente non solo il veto a Savona durante la formazione del governo Conte I, ma anche la richiesta di Moavero milanesi agli esteri. Questo fu anche un altro esercizio informale, diciamo, dei poteri di nomina del Presidente della Repubblica, che ottenne naturalmente. Una postilla, la nomina del Presidente del Consiglio invece è un potere formale definito dalla Costituzione, cioè l'articolo 92,2, che significa, diciamo, che i presidenti che hanno nominato un Presidente del Consiglio tecnico, per esempio Ciampi, Monti, Draghi o Politico, Amato, Dini, l'hanno fatto legittimamente, senza sforamento alcuno, perché la forma di governo parlamentare sempre permette questo tipo di interventi, a patto naturalmente che si trovi poi una maggioranza parlamentare disposta a votare la fiducia al Presidente del Consiglio e al suo governo. Certo, certo. Grazie mille per questa panoramica invece tutta italiana che appunto mostra come forse Mattarella si trova semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato, nel senso in questo momento dove c'è questa forte pressione verso la riforma costituzionale, il faro è puntato su di lui, quando in realtà lei ci ha fatto capire che nella storia italiana c'è sempre stata questa possibilità da parte dei Presidenti della Repubblica di esercitare questi poteri informali, come lei giustamente ci diceva. Allora io andrei con il contenuto due e poi subito anche il contenuto tre, che sono degli estratti degli articoli che sono usciti in questi giorni. Ecco qui l'articolo di Repubblica dice, riporta le parole di La Russa, il Presidente del Senato alla stampa parlamentare, negli anni il Capo dello Stato ha dovuto meritoriamente allargare i propri compiti per subito dalle carenze della politica. Se possiamo andare poi con il prossimo contenuto, che invece è un estratto di un articolo del Corriere della Sera, con cui la Russa continua, credo che i poteri costituzionali non siano minimamente attaccati, ovviamente si riferisce alla riforma costituzionale, nessuno degli articoli sul Presidente viene modificato. C'è una Costituzione materiale che oramai attribuisce al Presidente dei poteri più ampi di quelli che la Costituzione d'origine prevedeva. E ovviamente un'elezione diretta del Premier, dice la Russa, potrebbe ridimensionare l'utilizzo costante di questi ulteriori poteri. Ecco allora, professoressa, per chiudere questo suo intervento per noi su Polis. Queste parole di la Russa sono veritiere, nel senso che effettivamente la riforma e l'elezione diretta del Premier può andare a limitare i poteri del Presidente della Repubblica, oppure è un attacco forse fuori luogo al Presidente Mattarella? Allora, secondo il mio modo di vedere, la polemica della Russa sul Capo dello Stato è una polemica strumentale, sono molto d'accordo con quello che ha scritto Carlo Galli ieri su Repubblica, perché è una polemica in senso antiparlamentare. Il vero obiettivo del Premierato è quello di soggiogare in qualche modo il Parlamento all'esecutivo e, diciamo, da questo punto di vista il problema del Premierato, naturalmente, è quello di, diciamo, prevedere l'elezione diretta per un Capo del Governo, senza però istituire dei pesi e contrapesi istituzionali al potere esecutivo, come invece fa il presidenzialismo, che resta comunque, dal mio punto di vista, una forma di governo poco auspicabile nel contesto italiano. Però mi permetto di aggiungere che i poteri del Presidente che sono intaccati dal Premierato sono in realtà i poteri formali, cioè in particolare proprio quello del potere di nomina del Presidente del Consiglio, oltre a quello dei senatori a vita, che è un potere che viene di fatto poi eliminato. Quindi non tanto i poteri informali, ma invece i poteri formali. Quindi in particolare il potere di nomina subito dopo le elezioni viene intaccato perché chiaramente il Presidente a quel punto conferisce solo l'incarico. Però qui bisogna sottolineare che c'è un aspetto importante, almeno quello che si è capito finora della riforma, cioè la necessità però poi di blindare la nascita di una maggioranza, costituzionalizzando un premio di maggioranza. Questo è un punto importante, perché da un lato, questo è anche secondo me, al mio modo di vedere, un po' pericoloso, perché costituzionalizzare una legge elettorale che per definizione invece è oggetto di conflitto continuo politico ricorrente, non è mai una buona cosa. E dall'altra il problema è che il sistema partitico italiano è quello italiano, non è che cambia, cioè voglio dire i partiti sono molti e il sistema partitico è frammentato e a questo non, diciamo, la riforma secondo me non riesce a dare una grande soluzione. L'altro aspetto in cui il potere di nomina del Presidente della Repubblica, del Presidente che il Consiglio viene limitato, è durante la legislatura, cioè quando ci sarà una crisi, diciamo, di governo, perché l'incarico potrà essere affidato solo a qualcuno della stessa coalizione. Questo impedisce di fatto di trovare delle soluzioni alternative e quindi questo porterà a una maggiore probabilità di elezioni anticipate ricorrenti. E quindi da questo punto di vista, soprattutto in alcuni frangenti, in momenti storici, potrebbe essere, diciamo, come dire, problematico. Quindi dal mio punto di vista la russa non c'entra davvero il bersaglio, cioè i poteri, diciamo, informali dei Presidenti, né il problema, cioè quello di una riforma istituzionale, diciamo, seria, perché le riforme istituzionali devono farsi tenendo conto del contesto in cui siamo e quindi dei sistemi di partito che abbiamo. E senza azzardare delle innovazioni di cui si fatica a immaginare poi le conseguenze politiche. L'hanno già detto in molti, ma lo ripetiamo, il premerato è stato utilizzato solo da Israele e per pochi anni, dato che poi sono tornati indietro velocemente. Quindi, insomma, stiamo utilizzando, semmai, un esempio di insuccesso, non di successo. Assolutamente, assolutamente, anzi ricordo che nelle scorse puntate in cui abbiamo affrontato il tema, proprio il Professor Lanzalaco ci aveva mostrato con degli schemi come effettivamente il premerato, insomma, ha una serie di falle molto, molto importanti. Professoressa, grazie mille di essere stata nostra ospite, sicuramente ritorneremo poi nei prossimi mesi a parlare della riforma costituzionale, quindi magari la potremmo avere nuovamente qui con noi, se ne fa piacere. Come sempre, è un piacere. Arrivederci. Arrivederci.